della barca. Le popolazioni terremotate marchigiane hanno ricevuto centinaia di manifestazioni di sostegno e potuto contare su innumerevoli raccolte fondi per sostenerli nell'emergenza. Ma come sappiamo e come purtroppo avviene quando i riflettori della cronaca si spengono, alle volte l'enfasi si stempera e il flusso di solidarietà si affievolisce, ma nei luoghi delle calamità invece arriva la vera difficoltà, il dopo, la ripartenza. Allora il grande cuore di alcuni cittadini comuni diventa ancora più grande e dal nulla gesti semplici o generosità istintive che fanno parte del proprio bagaglio culturale riempiono il buco che si è creato e ricucciano i rapporti, come quello pensato dai fratelli Ridolfi, Sauro e Filippo, che mettono all'asta sei quadri del pittore Virginio Ridolfi, il loro padre, conosciuto ai più come il pittore dei Calanchi, anche se questo tema creativo riguarda l'ultimo periodo di produzione dell'artista, il tutto per poter aiutare le popolazioni terremotate marchigiane, un atto di grande generosità. I quadri di Ridolfi possiamo dire senza ombra di dubbio e con giudizio strettamente appassionato che parlano, i quadri e le tele di Virgilio Ridolfi parlano di un'amara terra ma amata a tal punto da creare quadri di pura fantasia sì, ma che con una personalissima tecnica dell'artista affanese, guardandoli e riguardandoli a distanza di tempo, anche io che li ho sotto gli occhi tutti i giorni, ci dice Filippo Ridolfi, mi accorgo di un taglio di luce, di una roccia, di un ruccello che mio padre aveva inserito e che non si era ancora manifestato. Certo, il titolo stesso che mi è piaciuto dare a quest'asta, che è amata, amara terra nostra o amara, amata terra nostra, secondo di come uno la vuol vedere, noi lo mettiamo prima l'amata, loro laggiù probabilmente che ha vissuto adesso questo sisma e questo, è che mio padre ha riprodotto sempre nel suo mondo queste nostre terre immaginandole, facendole nascere per come loro probabilmente le stanno vivendo, in un grosso movimento. I fortunati aspiranti possessori di queste magnifiche opere potranno contendersele ed aggiudicarsele inviando un'offerta via mail a infovirginioridolfi.com, base d'asta 500 euro e una segreteria li terrà aggiornati su eventuali rialzi. Le opere, se i dipinti olio su tela 50x70 progressivamente numerati, si possono vedere sulla sua pagina Facebook. Al termine dell'asta il ricavato sarà defoluto al comune di Visso.